e basta basta e neanche l'ultima cena si può scambiare una parola e già non pranziamo mai insieme e va bene state fuori tutto il giorno e va bene ma l'ultima cena avete capito che me ne vado o no e dove vado non prende l'avete capito o no e vivrei allora d'ora in poi non voglio sentire un dispositivo chiudete tutti i cellulati spegnete tutti non voglio sentire niente non voglio sentire volare una mosca mio giunta ma siamo a due metri non me le puoi dire in faccia le cose ma pochè stiamo dicono che rappresentano